Demenziale, anche perché, le dico una cosa molto pratica, ieri abito in un condominio qui vicino, hanno acceso il riscaldamento. Temperature, oltre le medie stagionali, il riscaldamento acceso, in barba ai divieti e ai blocchi, le leggi dei condomini vanno avanti. Provedimenti, quelli adottati dalla giunta di Padova, che non trovano d'accordo i cittadini. Bisogna fare qualcosa, ma bisogna cominciare a monte, perché è troppo facile bloccare le macchine. Non ha senso, perché l'inquinamento non dipende da queste cose, dipende da molto altro. Ridurre uno che ha una macchina, Euro 3, non poter circolare, perché come fa a comprarsene un'altra, se non ha le possibilità. Oppure i servizi pubblici, ma i servizi pubblici, purtroppo io vengo da Conselve, sono quelli che sono. Difficoltà oggettive, che ci racconta anche questa signora che arriva da Torreglia, che non può circolare con la sua auto e per arrivare in ospedale dovrebbe salire su tre diversi autobus. C'è gente che deve lavorare, c'è gente che deve andare all'ospedale e comunque l'inquinamento, secondo me, così non va risolto, perché purtroppo diffondo questo problema. Però è un problema grandissimo per tutti noi, ci dobbiamo spostare, perché io devo venire due volte al giorno all'ospedale, che è una mamma anziana e mio marito che deve fare delle fisioterapie perché ha avuto un intervento. Io sono disperata, signora, perché purtroppo ho una macchina che non mi posso permettere, quando vogliono loro, di cambiare la macchina, perché purtroppo le possibilità non ci sono. Le macchine le possono cambiare solo chi ha i soldi per poterle cambiare, è un disastro. Difficile star dietro i colori dei livelli di allerta, aggiungono poi i cittadini. Con il blocco del traffico così un giorno sì, un giorno no, la gente non può informarsi. La gente che va a lavorare, come fa? Alle 8 e mezza della mattina i soldi operai che non possono, che devono fermarsi sul posto di lavoro fino alle 6 e mezza della sera perché non possono rientrare, perché hanno i furgoncini e poi l'Euro 4, ragazzi. Ma cosa crede che la gente abbia i miliardi per cambiare in continuazione le macchine? L'obietà di oggi è che, anzi di ieri, che per due o tre giorni i diesel 4 non si sono potuti... Ma domani potranno rincipare? Insomma è una notizia che tutti i padovani conoscono, immagino, perché c'è una grande diffusione di pubblicità su queste cose. No, non c'è proprio e quindi una grande incertezza per tutti i padovani.